Razze canine, Episodio 5. Il Boston Terrier. Il Boston Terrier, è una razza canina originaria della città di Boston, degli Stati Uniti. Rientra nella sezione dei molossoidi di taglia piccola. Questo cane, è veramente intelligente, ed è vivace quando è il momento di esserlo, e tranquillo quando la situazione lo richiede. Non è nervoso, ma è coraggioso. Abbaia di rado. Morfologia. Cranio. Un po' quadrato, privo di rughe. Orecchie. Triangolari e portate rette. Occhi. Scuri. Collo. Di lunghezza media. Corpo. Dà l'impressione di essere corto. Arti. Robusti. Coda. Bassa e corta. Pelo. Corto e liscio, brillante. Altezza. 38, 43 centimetri. Peso. 9, 11 chili. Alimentazione. Al giorno, è corretto dare al Boston Terrier dai 120 ai 180 grammi di alimento completo. Sono ottime per il cane e le crocchette. Non è vero. A moi. Ma comunque divide al campo. Solo. Non è vero.